Claudio Baglioni si conferma uno degli artisti più amati dal pubblico siciliano, in particolare da quello delle province di Agrigento e Caltanissetta. Infatti, in poco più di un'ora sono stati acquistati tutti i biglietti disponibili online per assistere al concerto del cantautore romano, che si svolgerà il prossimo 18 novembre al Teatro Pirandello di Agrigento, nel corso del tour 12 note solo bis, che lo ha portato a toccare praticamente ogni angolo d'Italia. L'autore di classici come Piccolo Grande Amore, Poster, Viva l'Inghilterra e altri brani entrati ormai nell'immaginario collettivo, ha spesso scelto le province interne della Sicilia per promuovere il suo lavoro. Anche a Caltanissetta ha infatti tenuto diversi concerti, che hanno fatto registrare numeri importanti. Adesso l'attesa per la tappa agrigentina, alla quale parteciperanno sicuramente molti cittadini nisseni.